Sono le ore 19 del 6 luglio 2018, procediamo con l'estrazione delle squadre relativa al primo torneo Consorzio Cocino. Vittorio estrarrà le palline, Franco procederà all'apertura e io farò la trascrizione. Procedi Vittorio con la prima estrazione. Estraiamo in questo momento il gruppo A. Dinamo Trasta. Ok, Vittorio procediamo con l'estrazione del gruppo B. Trasta. Ok, Vittorio procediamo con la prossima squadra del gruppo A. Italfair. Ok, procediamo con la prossima squadra del gruppo B. DCP3-9. Vittorio procediamo con la terza squadra del gruppo A. Mascalzone Latino. Vittorio procediamo con la terza squadra del gruppo B. Atletico ma non troppo. Ok, procediamo con la terza squadra del gruppo A. Rolling Stock. L'ultima squadra, penso che ormai sia rimasta l'ultima. Procediamo con la terza squadra del gruppo A. Prosecco. Ok. Ok. Vittorio puoi liberarti. Entro domani verranno diramati i calendari con inizio martedì 10 luglio. Arrivederci. Arrivederci. асс Kung 메�학. Procediamo ora migrate. Io